8esimo del primo tempo, Viverla Rezzi che è in vantaggio per 2-0 sul Interregio, attenzione all'Attanzio, bene per Di Piedi, 18-0, attenzione a regalare, Di Piedi gol, 3-0, 3-0 Michele Di Piedi, appena entrato in campo ha avuto quest'assist meraviglioso di Lattanzio che l'ha trovato sul filo del fuorigioco e l'ha messa dentro, Michele Di Piedi Grazie